Un altro importante passo verso il riconoscimento del marchio DOP per il suino nero dei Nebrodi e i prodotti da questo derivati. Con una circolare di martedì 4 maggio, l'Associazione Nazionale Allevatori Suini ha riconosciuto la denominazione suino nero dei Nebrodi, annoverandola tra quelle che possono essere legittimamente usate per la certificazione degli animali iscritti al libro genealogico e per i loro prodotti. Suino nero dei Nebrodi non è solo un marchio, rappresenta l'identità di un territorio e finalmente siamo riusciti a ottenere il giusto valore per le produzioni del territorio stesso. Quindi solo le produzioni che avverranno all'interno del territorio dei Nebrodi, quindi l'area Nebrodi, potranno freggiarsi del marchio suino nero dei Nebrodi. Abbiamo iniziato il percorso tre anni fa con il marchio collettivo di qualità sul prosciutto dei Nebrodi, premio Vinitali quasi immediatamente, premio Alcibos per il miglior prosciutto, quindi il percorso è già iniziato. Questo sarà un passo importante anche per l'ottenimento della doppia, perché chiudiamo un'area importante che è quella dei Nebrodi. Deve partire comunque dal territorio la voglia di consumare prodotti dei Nebrodi, no? Sì, adesso è importante fare squadra ancora di più, quindi essere ancora più uniti sia nelle produzioni che nello sposare la causa, quindi nello spingere il prodotto sempre più lontano. Si sta anche lavorando per produrre sul territorio? Assurdamente, il prosciutto edificio di Galati, siamo ormai agli sgoccioli, quindi gli ultimi documenti avverrà la consegna, spero, nella prossima settimana e da lì partirà una grossa produzione, innovando anche nei prodotti e nei processi produttivi. Queste iniziative servono a salvaguardare e promuovere produzioni di qualità straordinarie e uniche, ha aggiunto Bernadette Grasso, deputato regionale di Forza Italia.